Come trarre beneficio dalla Blue Energy, un settore emergente che sta offrendo opportunità di crescita ed occupazione ed è oggetto di una promettente azione di sviluppo supportata dai fondi europei. Se ne è parlato questa mattina nell'ambito del convegno organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dal titolo la Blue Energy e l'Hub Italiano per promuovere le fonti rinnovabili marine. Una tavola rotonda con i partner coinvolti nel progetto Cost Energy che prevede la costruzione di conoscenze ed opportunità per promuovere attività nel settore delle energie rinnovabili marine e per creare i presupposti per la costruzione di infrastrutture avanzate nei porti e lungo la costa. Oggi parte questa struttura che si è organizzata con finanziamenti europei con diversi partner croati e italiani per cercare di attivare tutti gli studi possibili per arrivare, se Dio vuole un giorno, alla produzione di energia blu, così come chiamata, a livello industriale. Diciamo che oggi quello che è importante è arrivare a capire come arrivare a produrre a livello industriale, dopodiché i soldi si spregano, sono le idee che ci servono. Questo è un programma di Interreg che si occupa della costa adriatica, vuol dire la costa italiana e la costa croata. Noi, IRENA, l'agenzia di energia in Istria, abbiamo fatto come lead partner, abbiamo contattato altri partner in Italia e anche in Croazia e abbiamo fatto un progetto che si chiama Cost Energy e si occupa della energia rinnovabile, della blu energia del mare praticamente. Abbiamo fatto un progetto che alla fine si tirano fuori i risultati più di quello che sappiamo oggi, però sicuramente quegli risultati devono essere reali, ecco, realistici, che domani si può fare un lavoro con la energia rinnovabile del mare. Noi abbiamo un ruolo come soggetto interessato, portatore di interesse, in quanto il tema dell'energia sostenibile è uno dei temi strategici, ce lo dice la legge nazionale, per lo sviluppo degli scali del sistema paese. In quanto autorità è incaricata della gestione di sei scali nel medio adriatico, chiaramente il tema delle energie rinnovabili provenienti dal mare è uno dei temi di fondamentale interesse anche nell'ottica della cooperazione della macroregione adriatico-ionica.